La proposta religiosa si inserisce in uno spazio che dalla fine del tercento inizia a identificarsi e soprattutto che avrà in momenti diversi. Ed è peculiarità di una biblioteca del tradumatico. Infatti è quello che è un portale, opera della te, ma soprattutto l'elefante è il simbolo della forza, della potenza e quel motto che a cui ci stai da generare, ma soprattutto in quanto è interessante cercare tra l'intercomunio ad una presentazione scenica di grande effetto. Oppure quello che è la pagina con, in questo caso, il simbolo della farfalla. È il maestro della farfalla che si ripete in più codici, è una rievocazione probabilmente legata alla figura di Leonardo e Malatesti, in moglie di Novello. E' importante che troviamo, appunto, delle situazioni ambientali, sistematicamente, da 1460 fino all'800. Italiano. L'hanno insegnato bene. All'unio. Posso spingere la mano? Grazie. 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 Conserviamo questa pagina, certamente. Grazie.